Alla fine siamo riusciti a recuperare Simon e Donga Olami, 23 anni lo scorso domenica ad Acri, hai fatto il compleanno, l'hai festeggiato con una settimana di ritardo, finalmente con una capriola, il primo gol con la maglia di Sant'Agata, quali sono le tue emozioni? L'emozione è perché sono molto contento, prima per la squadra, perché vogliamo questi tre punti per tutto e anche sono molto contento per il Real, perché vogliamo questi tre punti soprattutto. Ho capito. Senti, ma tu hai fatto, io ho detto all'inizio della partita che sei arrivato quest'estate, hai messo subito curiosità per la tua velocità, per i tuoi scatti, poi invece hai fatto un buon campionato a centrocampo, cioè ti sei adattato a giocare un ruolo che magari non era il tuo, quindi forse mister Vaccaro ti ha scoperto in questo ruolo, gli devi anche qualcosa a questo mister che ti ha insegnato un po' tatticamente a giocare a calcio. Sì, però io sono contento per trovare questi due mister anche a società, perché mister è un bravo allenatore, perché lui lo sa tutto che fanno sull'allenamento, e lui lo sa tutto che noi stiamo dimostrando tutto dell'allenamento, perché questo che devi fare sull'allenamento devi giocare sul campo.